Buonasera a tutti e ne approfitto per ringraziare il simpatico Diego e l'organizzazione per avermi invitato. Io vi racconterò di un breve viaggio in bicicletta attraverso alcuni immaginari alpini, alcune tipologie di immaginari alpini. Però mi devo scusare con voi perché a differenza di chi mi ha preceduto io non posso vantare grandi qualità come oratore, quindi mi appoggerò spudoratamente a questi fogli. Non fatevi ingannare così facilmente. Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Con queste parole, che a molti potrebbero forse apparire fin troppo schiette, il grande alpinista Walter Bonatti ha più o meno volontariamente centrato il bersaglio. Per muoversi nella complessità del mondo, senza perdere l'equilibrio, l'uomo ha bisogno di attribuire un significato alle cose che lo circondano, naturali o artificiali che siano. Un concetto espresso con chiarezza dal realismo magico di Gabriel Garcia Marquez in Cent'anni di solitudine. Un giorno arriva a Macondo, il villaggio dove è ambientato buona parte del romanzo, una piccola orfana chiamata Rebecca. Rebecca, come chi ha letto il libro ricorderà di certo, porta con sé il contagio della malattia dell'insonnia. Oltre a impedire di dormire, però, il morbo provocava anche una graduale e profonda perdita della memoria. Con esse inizia a sfumare il significato delle cose e gli abitanti di Macondo, sempre più disorientati, si trovano costretti ad applicare a ogni oggetto un bigliettino con scritti nome e funzionalità. È una misura necessaria per salvarsi da un'altra infermità, la perdita parziale o totale della vista. Le cose prive di significato, infatti, non vengono riconosciute dall'uomo. Il suo sguardo, naturalmente, le percepisce, ma appaiono diafane, quasi invisibili, e non riesce a catturarle, a farle proprie. Naturalmente, in questo processo di attribuzione di significati, l'immaginazione gioca un ruolo fondamentale, perché è in grado di ridurre in modo significativo quella complessità del mondo di cui parlavo prima. L'uomo, infatti, non si muove solo ed esclusivamente all'interno di un territorio fisico, seguendo istinti dettati dal suo carattere biologico, ma si muove anche e soprattutto all'interno di un immaginario, ovvero sia di un universo culturalmente costituito. Ma poiché questi universi variano di cultura in cultura, è difficile, se non impossibile, declinare la parola immaginario al singolare. È più corretto, infatti, parlare di immaginari, che raramente possono definirsi collettivi, ma piuttosto dominanti, perché anche all'interno di una stessa società, di un'unica società, è facile registrare differenti modi di attribuire un significato alle cose. Tutto ciò per dire che il nostro è un mondo che parla al plurale e in quanto tale ha un differente modo di intendere e di immaginare le montagne. Per tornare alla citazione iniziale, per Walter Bonatti, alpinista, le montagne acquisiscono un significato più o meno profondo in relazione al valore degli uomini che le hanno salite. Ma per un pastore la profondità del significato aumenta o diminuisce in base agli ettari di pascoli disponibili. Il cavatore presterà attenzione alle potenzialità geologiche, l'industria idroelettrica a quelle idriche, lo sciatore al chilometraggio delle piste e alla modernità degli impianti e così via. Lo scorso giugno sono partito da Vicenza in bicicletta per raggiungere Cortina. Il viaggio non nasceva da chissà quali bellità sportive ma dalla curiosità di osservare con attenzione il progressivo mutamento paesaggistico che si snoda tra la pianura padana e il cuore delle dolomiti ampezzane. Perché allora in bicicletta, vi chiederete voi? Perché quello in bicicletta è sia un procedere muscolare ma anche e soprattutto sensoriale. A differenza del viaggio in automobile, infatti, non isola la maggior parte dei sensi. Li lascia liberi di influenzare l'esperienza dei ciclista, di proiettarlo nel paesaggio, di restituirgli la percezione degli spazi, la loro lenta trasformazione. La velocità viene sostituita da una maggiore consapevolezza. Ad accompagnarmi in questo viaggio è stata una vecchia Olimpia di fine anni 70. Un avanzo di bicicletta che sebbene dal punto di vista estetico abbia il suo perché, da quello pratico lascia alquanto a desiderare. Nei quattro rapporti ne funziona solo uno e non si può certo dire leggerissima e nemmeno il Gera. E' quella lì. E si intravede, ma è pesante. La pianura veneta è un discontinuo alternarsi di capannoni e campi. discontinuo perché ormai i primi hanno preso il sopravvento sui secondi. Poi arriva la bella Bassano affacciata sul Brenta ad annunciare l'inizio dei colli esolani. Qui finalmente le altimetrie interrompono la monotonia e il grigiore della pianura. I colli esolani sorgono sul Brenta per tuffarsi più a est nel Piave. Tra i paesaggi del Prosecco termina la prima tappa. Lo sguardo sconfina tra distese di viti che si arrampicano in ogni dove. Come in ogni monocultura che si rispetti anche qui la struttura paesaggistica ha progressivamente iniziato a ruotare attorno a un unico perno in questo caso un vino bianco dalle sfumature paglierine. I colli che incorniciano Valdo Biadene hanno secondato un immaginario dominante che non trova in loro un significato diverso da quello di terre da vino. Dopo una notte trascorsa in tenda incomincia a risalire il Piave a tratti mi sento un salmone solo che invece di cavalcare la corrente in direzione opposta sbatto il muso su un insistente vento contrario il paesaggio diviene quasi subito claustrofobico muri verticali proteggono il fiume che li ha scavati i raggi del sole ostacolati dalle montagne faticano a illuminare la strada così una tonalità verde scura prevale sulle altre dopo un meandro particolarmente pronunciato la valle si apre pontando dritta verso Belluno il Piave indica la direzione una volta raggiunto ponte nelle Alpi con una svolta secca verso nord il fiume si riporta tra i rilievi pedalo con lo sguardo rivolto a destra ogni volta che incrocio una valle laterale mi aspetto di scorgere da un momento all'altro la diga e invece niente la somiglianza di quelle gole strette inganna il viaggiatore poi da lontano intravedo Longarone con i suoi palazzi anni 70 sembra un grande balcone 60 scusate non sono 70 anni 60 sembra un grande balcone Longarone sembra un grande balcone affacciato prima su una zona industriale e poi su due monti il Toc e il Salta a unirne le pendici scavate dal torrente Vaillont e una colata di cemento alta 261 metri resse la frana di 260 milioni di metri cubi di roccia che si staccò dal Toc non si piegò all'onda di 50 milioni di metri cubi d'acqua che invece inghiottì Longarone è ancora lì monumento alla memoria ma soprattutto vergogna perenne di un modo di fare scienza che ragiona per compartimenti stagni e di un modo di fare politica malsano poiché incapace di spingere il naso oltre i profitti non era la prima volta che seguivo quel tratto di piave non era la prima volta che vedevo la diga anzi un giorno dopo una scalata sono andato con due amici a osservarla da vicino a toccarla un gesto istintivo forse un po' ingenuo motivato dal desiderio di sentire sui polpastrelli il corpo ruvido della catastrofe eppure solo la bicicletta è riuscita a offrirmi la predisposizione emotiva per provare a orientarmi tra i vapori malinconici che ancora oggi a distanza di quasi 60 anni dal crollo del monte Toc avvolgono quel tratto di valle smonto di sella appoggio la bici e mi fermo a guardare la diga proprio come sosteneva Paolini nel celebre monologo teatrale due sentimenti opposti schiacciano la coscienza il primo è di ammirazione verso un manufatto costruito a regola d'arte non è crollato ha resistito è altissimo e ricorda vagamente le opere di Costantin Brancusi il secondo sentimento di orrore quello sbarramento grigio ocra oltre ad aver strappato la vita a quasi duemila persone simboleggia la tracotanza di un pensiero che in nome del progresso rade al suolo paesaggi e società impone dall'esterno omologa senza preoccuparsi delle peculiarità locali in questo paesaggio convivono due tipi di immaginario dominante paradossalmente contrastanti la prima la più evidente parla il linguaggio della catastrofe la diga incastrata com'è ricorda il nido di un rapace che scruta dall'alto con occhio minaccioso lungarone solo che oggi la minaccia non è più rappresentata dalla possibile tracimazione dell'acqua o da un'ipotetica frana bensì dal ricordo quotidiano di un evento doloroso che anche quando non lo si evoca direttamente si percepisce nell'aria nelle cose nel paesaggio la stessa longarone molto lontana nell'aspetto da quella precedente alla catastrofe è un potentissimo generatore di malinconia da ogni suo scorcio da ogni sua architettura da ogni sua strada trassuda l'entità del dramma ma questo tipo di immaginario probabilmente si profila in modo dominante soprattutto in chi come me viene da fuori in chi è lungarone e non vive chi invece vi risiede deve deve aver imparato a convivere con il fardello mortifero che questi territori portano sulle spalle da quasi 60 anni la loro non è un'assenza di sensibilità ma una forma di sopravvivenza a volte infatti si cerca di dimenticare o meglio di ricordare intermittenza per riuscire a guardare avanti per superare un trauma per tornare a vivere in modo normale tuttavia al giorno d'oggi l'immaginario dominante vede riflesso nella normalità un progresso che difficilmente riesce a rispettare i limiti ambientali un progresso che come dicevo prima è capace di intendere il territorio quasi esclusivamente come una risorsa materiale ed economica e così come ci ricordava nei suoi saggi Renzo Franzin primo direttore del centro internazionale per la civiltà dell'acqua dopo la tragedia del Vajont non si è addolcito lo sguardo rapace con cui si osservava il piave è sostanzialmente rimasto invariato così come non è stato modificato in modo di intervenire sulle sue acque negli ultimi 40 anni denunciava Franzin nel 2004 lo sfruttamento intensivo ha ridotto di circa un terzo la portata del piave nella sua parte finale e ha ridotto del tutto il prosciugamento scusate e ha del tutto prosciugato circa il 90% dei torrenti d'alta montagna modificando profondamente la dinamica delle esondazioni torrentizie con conseguenze strutturali abnormi il secondo immaginario dominante presente in quest'area quindi cozza rovinosamente contro il primo attribuendo al fiume lo stesso significato che condusse alla catastrofe del Vajonte mi lascio Longarona alle spalle di primo mattino una volta superata la zona industriale la valle incomincia gradualmente a restringersi e il piave si insinua tra una boscaglia che con il passare dei chilometri si fa via via più compatta e disordinata ogni tanto attraverso paesini semiabbandonati in cui si riflette il destino della media montagna una montagna tagliata fuori dalle rotte turistiche e dunque da un immaginario dominante che tende a considerare questi territori delle semplici aree di passaggio dei paesaggi di transizione da superare per raggiungere la vera montagna quella ammirata centinaia di volte sui dépliant delle agenzie e viaggi nella pellicola di qualche film natalizio o molto più semplicemente sui social network è un circolo vizioso più un luogo viene fotografato e condiviso più cresce la sua carica attrattiva ma soprattutto il desiderio di dimostrare di averlo visitato si vengono così a creare dei paesaggi iconici che come le figurine di un album si ambiscono ad aggiungere alla propria collezione in questo modo si sviluppa una montagna balbuziente perché i rilievi situati al di fuori della strada maestra risultano invisibili agli occhi dell'escursionista e di chi promuove il territorio a montagne di serie A spesso afflitte da forme di turismo incompatibili con l'ambiente e con le società si alternano montagne di serie B ignorate da tutto e da tutti abbandonate assieme ai loro ormai rari abitanti è una dinamica che ha abbracciato l'intera catena alpina ma risulta evidente soprattutto sulle Dolomiti caratterizzate da valli più minute e da spazi relativamente stretti rispetto a quelli offerti dalle Alpi occidentali è sufficiente pensare ai laghi di Braies o di Sorapis attorno ai quali ronzano migliaia di visitatori ogni fine settimana oltre a un impatto ambientabile non trascurabile l'assalto di massa riduce notevolmente il valore dell'esperienza tant'è che molti turisti tornano a casa accompagnati da un profondo senso di delusione per cercare di distribuire il turismo con i suoi benefici ma anche con la sua impronta ecologica in modo più equilibrato forse bisognerebbe incominciare a raccontare le Alpi come una regione plurale Montebianco Monterosa Cervino Ortles Pelmo e Marmolada non sono le uniche vette le 52 gallerie del Pasubio non è l'unico itinerario percorribile in tutto il Triveneto è doveroso liberarsi da una retorica fatta di semplificazioni per evitare la creazione di località di serie A e di serie B per passare dalla serie cadetta alla prima divisione alpina dalla media montagna al cuore delle Dolomiti e quindi dall'obsoleto alla monocultura turistica devo affrontare la Cavallera una ripida salita che nasce a perarolo di Cadore la vecchia Olimpia come dicevo è senza cambi la mia progressione vista dall'esterno deve essere apparsa quindi piuttosto pietosa tuttavia incredula e felice sono riuscito a raggiungere Tai di Cadore senza staccare i piedi dei pedali a distanza a breve distanza incrocio un nuovo corso d'acqua da seguire il torrente Boite lo risalgo grazie a una splendida pista ciclabile che segue l'itinerario della vecchia ferrovia in un sosseguirsi di piccole gallerie di piacevoli sterrati e di boschetti di conifere rispetto alle quote inferiori qui la presenza antropica è policroma tuttavia le diversità convergono in un denominatore comune il turismo una mono economia sviluppatasi lungo il Boite in modo evadente e pervasivo sotto i profili del pelmo dell'antelao dell'etofane del cristallo l'immaginario dominante ha camaleonticamente assorbito impulsi provenienti dall'esterno è una montagna pensata per gli abitanti della pianura allo scopo di soddisfarne le aspettative quelle aspettative come dicevamo prima spesso consolidatesi sui social network si viene così a sviluppare un altro paradosso se da un lato la parola tradizione ha colonizzato le insegne di ogni locanda illudendo i villeggianti di trovare in montagna una civiltà capace di non farsi corrompere dalle trasformazioni e dalle tecnologie dall'altro questa anacronistica idealizzazione del passato si contraddice in una miriade di interventi infrastrutturali finalizzati ad appagare il desiderio ludico del turista sotto le vertiginose pareti delle tofane risaltano le cicatrici lasciate dai mondiali di sci in giugno l'erba non era ancora riuscita a coprirle del tutto così tra i boschi scendevano le lacrime terre di una montagna ferita piangono anche le cinque torri dove i lavori sviliscono l'armonia paesaggistica a Cortina i comprensori sciistici non si potevano certo dire modesti eppure si è sentita la necessità di ampliarli con il rischio di ridurre le potenzialità qualitative del paesaggio una dinamica da non sottovalutare per un territorio che deve la sua fama turistica a una posizione strategica dal punto di vista estetico l'industria sciistica ha detto dalla maggior parte degli studiosi ma anche di importanti comitati per l'ambiente come ci sarà un bel clima che è un'interessantissima realtà nata di recente e per chi fosse interessato vi invito a seguire la loro pagina facebook o comunque a guardare il loro sito internet comunque dicevo che l'industria sciistica ha gli inverni contati a causa della crisi climatica il dramma sociale è quindi dietro l'angolo considerato che Cortina come molte altre località alpine ha deciso di abbracciare la monocultura dello sci un piccolo assaggio di ciò che potrebbe accadere l'ha offerto il covid nell'ultima stagione la chiusura degli impianti non ha messo in difficoltà solo i grandi imprenditori ma soprattutto quelle realtà minori legate allo sci in modo indiretto ciò nonostante gli appelli alla moderazione e alla parsimonia negli interventi pare non abbiano fatto breccia nelle istituzioni pertanto si continua a sviluppare spesso con la partecipazione di fondi pubblici un'economia che corre rapida verso il tramonto in un futuro privo di certezze meteorologiche la conca ampezzana e non solo dovrà iniziare un processo di frazionamento economico sciogliendo la dipendenza con le attività legate alla neve e incominciando a dirottare gli investimenti in progetti finalizzati a differenziare l'offerta turistica e più in generale lavorativa non si tratta solo di una questione di salvaguardia ambientale si tratta soprattutto di una questione di salvaguardia sociale questa operazione di standardizzazione forzata rischia infatti di gettare dal dirupo un'intera società tra le pareti di dolomia che incorniciano cortina si è concluso il mio viaggio anzi forse sarebbe più corretto dire sulle pareti di dolomia perché margherita dopo avermi raggiunto mi ha portato ad arrampicare come se non avessi fatto abbastanza attività no? mentre eravamo in parete mi sono imbattuto su un'ultima importante tipologia di immaginario dominante le alpi come calamita capace di attrarre centinaia di alpinisti discursionisti che saturi della frenesia e degli effetti collaterali della vita urbana vedono negli orizzonti alpini un'opportunità per riallacciare il rapporto con gli spazi naturali a dimostrazione di come la cultura e di conseguenza gli immaginari si trasformino nel tempo oggi sono e siamo visceralmente attratti dai rilievi ossia da un elemento geografico che come abbiamo visto prima per un arco di tempo molto prolungato era concepito essenzialmente come uno spazio inutile ai tempi degli antichi romani e greci le montagne erano avvertite come un muro naturale in epoca medievale erano percepite come un ambiente ostile e abitato da uomini e da creature anomale e spaventose infine dai moderni furono bollate con l'appellativo di immondezzaio della terra a definirle così fu il viaggiatore inglese John Evelyn nel 1673 anno in cui scrisse la natura ha spazzato tutte le immondizie della terra nelle Alpi allo scopo di spianare e di ripulire la pianura della Lombardia concludo con la consapevolezza di aver elencato in modo molto superficiale solo alcune delle tipologie di immaginari che si snodano all'interno della regione alpina descritta resta infine innegabile l'influenza della mia personale percezione e quindi della mia personale immaginazione su questo intervento ma d'altronde è impossibile eliminare del tutto quello che Calvino chiamava lo scomodo diaframma della mia persona grazie grazie posso fare una domanda se questo interesse a tutti Pietro ti sei dato il limite della vecchia bicicletta con un cambio perché perché la vecchia bicicletta funziona soltanto con un rapporto su quattro allora ho anche una bicicletta con i cambi ok beh anche quella non è nuovissima a me esiste però è ad asiago nella casa dei nonni da circa due anni per cui è un po' malconcia insomma e in più io volevo partire subito la bicicletta era in altipiano e e niente ho preso io poi la chiamo la muletta perché mi ricorda un po' un mulo perché arranca piano piano ma non si ferma mai e e niente ce l'ho fatta poi mi ha accompagnato anche in altri viaggi per cui adesso mi sono affezionato adesso non voglio più usare la bici con i cambi hai gambe buone ok grazie grazie niente grazie a voi grazie grazie